Segui La Sette anche su Instagram. La Sette ovunque con te. Torniamo da Giorgia Meloni che sta rispondendo su una domanda relativa alle spese militari. Che riguarda la capacità che una nazione ha di difendere i suoi interessi. Io l'ho sempre pensata così e quando ero all'opposizione ero forse l'unica che aveva il coraggio di scrivere nero su bianco su un programma di governo che bisognava aumentare l'investimento in questo senso. Ora chiaramente anche l'Italia sta facendo la sua parte, guardi l'ha fatta trasversalmente ai governi, alle forze politiche. Io voglio ringraziare il coraggioso impulso dato da Giuseppe Conte il cui governo aumentò di 3 miliardi le spese militari perché insomma credo sia importante lavorare trasversalmente da questo punto di vista. L'Italia andrà avanti, deve andare avanti. Ovviamente diciamo di quanto parliamo, in quanto tempo, questo è dato dalle condizioni che ci circondano, non sono in grado di... Allora rientriamo perché prima di andare in pubblicità voglio sentire...